Ci abbiamo la bruschetta con pomodoro, le brittate con la cipolla, con le zucchine e con le patate e poi l'uovo ripieno contorno. Per primo ci abbiamo la pasta con le zucchine, secondo ci abbiamo i voltini di pollo con prosciutto cotto e formaggio, il limone, il contorno a verdure grigliate e la macedonia. Tutto qui. Ok, abbiamo la bruschetta, la tipica bruschetta con le tomate, abbiamo il tagliere misto con la brisaola, abbiamo una frittata, una zucchine omelette, abbiamo una potato e un omelette, abbiamo le egghello con tuna, con la prima volta, la pasta con zucchine, con le braccia con prosciutto cotto e formaggio, followed by, a vegetariano option, a bowl of chickpeas with tomato sauce, vidore grillato, grilled vegetables, and macedonia, fruit salad, fruit dessert. Love it.